Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati dal vostro MrVolpix, ben ritrovati oggi su Vala Nerds, non ho letto che giorno era e dove eravamo Oggi siamo qui con Fretti e siamo di nuovo qui costretti a lavorare, a dover lavorare nuovamente E qui in mezzo ai campi francesi Fretti è andato a fare un po' di cose, così per i cavoli suoi, ho capito Quindi qui c'è un uccello, ma dobbiamo prendere qualcosa per buttarlo giù, da qui non si può passare però Quindi piuma, più sacca di inchiostro, e infatti se vediamo, ah qui si può proseguire benissimo Ah, vuole un calzino per una sacca di inchiostro, figlio di puttana Vabbè, non ha tutti i torti, dobbiamo fare lo scambio, ecco qua il calzino, va bene, salve Ah, abbiamo preso la carta da poker, così, ah grazie, ok, benissimo, ci siamo Squadra per i tagli, ma non posso dire cosa c'è, nel senso Non è perché le voglio fare così, ma è per una cosa mia personale, va bene Ok, quindi adesso portiamo il calzino qui Ok, dammi la sacca per, la sacca scusa, la sacca di inchiostro, dai Hai bagnato, minchia che palle, va bene Dai, va bene Tieni Ok, grazie mille E adesso, da quello che ho capito Mia amata figlia, ho notizie di Carl E infatti, vedete, può scrivere adesso la lettera È ancora nel campo di prigionia a sud di Rams Spero di ottenere il permesso di visitarla Che bella storia, bellissima Che cazzo è successo? Porca puttana Oh, c'è, tra la folla come cazzo faceva vedere, freddi Ok, andiamo, spregati, spregati, dai freddi Porca puttana, devo fare colpire Qui c'è qualcosa, ok Dai però Oh, vedi che ti colpiscono, stronzo Eh, bravo, vattene, che meglio Andiamo, andiamo, andiamo Mi ero flamato perché avevo visto qualche cosa Andiamo, andiamo Ok, ce l'abbiamo fatta Adesso che è più lenta la cosa Vai, 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 esplicati, esplicati Cadroia E' normale Perché non prendo un fucile, Dio santo Vabbè, scusate Oh mio, eh, vabbè Non me ne sono accorto, Dio santo Posso prendere la dinamite, no? Vabbè, fa lo stesso Dai Vai, vai, vai Andiamo qua Andiamo, andiamo Caputtana Cazzo che ci sparano, dai Meno male Che siamo tutti salve per adesso Per adesso, eh Purtroppo questa battaglia Moriranno tantissime persone Questo mi rispiace tantissimo Devo dire la verità Ok Ah, prima siamo andati qua All'essero l'altra parte Di nuovo Va bene Va bene, va bene Ci può stare Ah, ho capito Con sto bastoncino Va bene Eh, vabbè Però che cazzo Dei merito in merda, no? Andiamo, eh Secondo perché Devo provare E infatti Sto cosa a questo Mi serve Vai, eh Bravissimo L'abbiamo fatto Andiamo, andiamo, andiamo Andiamo Alla riscossa Poi c'è un altro Che sicuramente si servirà Dopo Ecco Appunto Andiamo, eh Ma ho avuto per mettere Sta cazzo di carta Ah, no Due in uno Cos'è sta cosa? Andiamo, andiamo, andiamo Andiamo Vai, vai, vai Ok Benissimo Eh, bravissimo Anche io ci potevo arrivare da solo Ma purtroppo Non lo sapevo Ehm È bravo Ok L'abbiamo fatta Adesso Prendiamo sta cazzo La bomba Ah, vai Questa volta scoppia però Sono sicuro E infatti Io riprendo un'altra Precauzione Non si può sapere mai E proseguiamo Per di qua Non lo vedo Oh mio dio Attenzione E questo Che è un bastardo Che Ok Vai, vai Adesso che sta ricaricando Adesso Attenzione Figlio di puttana Vai Spiegati, spiegati, spiegati Minchia del culo Vai, vai Andiamo, andiamo Dai Basta Dai ricaricare Stronze Più veloce, più veloce Vai, vai, vai Ok, benissimo Ce l'abbiamo fatta Aspettate Oh mio dio Ah no Qui c'è un bastoncino Vai Bastardo Dai, cosa è rotto Dai ricarica Ok, ok, ok Meno male Per questo è molto più veloce Vai Bravissimo Ok, adesso Molo su Che pezzo di merda Andiamo Dai, dai Per cui ci aspettano gli altri compagni Spiegati Missile Lo so che sta andando avanti Missile Andiamo qui nel bunker Aspettate La puttana Non vediamo cosa c'è Piano di sopra Dai, non c'è qualche Ok, ok Minchia Che cazzo sono sti cannoni Porca puttana È un È freddi Che cazzo faccio Ah Lancia un raggio di segnalazione Ah, freddi Ok, ok Andiamo Andiamo Vabbè andare i cannoni So che qui ci può essere qualche cosa Infatti Per prendermi sta bomba Perché sicuramente dovremo ritornare qua Io odio fare tantissimi viaggi Dai, porti sta bomba Bravo Ok Andiamo, eh Devo usarla bene sta bomba Perché voglio evitare di fare tagli stavolta, eh Mi giuro Voglio evitare Oh mio Dio Che cazzo Qui c'è la ruota Come cazzo è spawnata la ruota? E qui Lo so Mi serve la chiave E qui ho un complesso Un poco Ah, ecco Tanta madonnina E qui sono le chiavi Vai, vai, vai Spingi, spingi, spingi Adesso Adesso questo mazzo di chiavi Lo devo mettere Sicuramente qua Avete, c'era l'armadietto Ah, ecco la ruota Prendi sta ruota Ok Bravo Eh, aspetta eh Ah, perché deve essere collegata al canale È freddi Ho capito Ah, sì, sì Va bene, va bene Ho capito Allora Secondo i miei calcoli Dobbiamo mettere Sta bomba qua Però Però Dobbiamo farla cadere In un modo Vediamo, eh Perché Oh, sì Forse ce l'abbiamo fatta, eh Andiamo Bravissima, esplode Succhia Che poi c'è una bomba Può far cadere solamente un ramo Vabbè Eh, particolari Minimi, minimi Particolari Mettiamo adesso La Manovella qua Così possiamo farla girare Vai Ok Adesso gira Ok E adesso Vai Vai, spingati Ok Ne prendi uno Di nuovo Ah, ok Bene Vai, vai Ok Ok, adesso potremmo Vabbè Aspettate un secondo Ok, adesso possiamo Ingranare qua Benissimo E possiamo farlo partire Quindi lui ci ha detto Io non mi ricordo Assolutamente Dove mi ha detto lui Ah, ce l'ho fatta Ah, ce l'ho fatta Minchia Raga Vi giuro Un quarto d'ora Per farlo Vi giuro Porca puttana Non capivo Dopo dovevo sparare C'è Eh Ho capito Che ce l'abbiamo fatta Minchia Però io ci ho messo Un quarto d'ora Per capirlo Dai Dategli una medaglia Dai E decisero di decorare I due amici Per il loro coraggio Eh Dategli una medaglia E meno male Ok Benissimo Ma cosa possono contare 70.000 al mese Alla circa Un francese E un tedesco Ogni minuto Porca puttana Per dieci mesi Giorno e notte Minchia Minchia raga Dammi la morte al mese C'è Non si scherza Comunque 8 maggio 1906 Si La squadra D'Emil Fu mandata A riprendere Il Fort Duomont Punto strategico Della difesa tedesca Va bene Ok Vediamo eh Non capisco Se ci vogliono Più chiare a vicenda Devevo andare Ah Devevo andare là Ok Va bene ragazzi Io direi che il video Ci può anche finire qua Spero che vi sia piaciuto A pollicione In su commentato E quando vedrete Il mio video Se vi va 8 maggio 1916 Dunamond Francia E noi ci vediamo Al prossimo video Da vostro Mr.Volpix 97 Quindi ciao ragazzi Al prossimo video Bella